rinnovo dell'ultimate per quanto tempo 3 mesi che a meno che mi interessa tanto anche perché c'è un sacco da giocare e lo so figlio mio però io ho fatto il reclamo per le palle intanto però ancora mi hanno dato i soldi quindi se lo vuoi dici e mi dai 6 euro di differenza se no continuo a fare il reclamo e non lo posso usare si può usare solo una volta allora ti ho invitato a giocare sto streamando a 1080 60 fps comunque mi sa che la tua amica me la ritroverò su code visto che l'altra volta disse che aveva xbox io penso che se l'ex box sì penso che se le piace gears sarà appassionato a un po di tutti i giochi spara tutto io davvero se lo trovo su però non penso che subito 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 perché dove mi pensano tappo quello con l'altro un bordello di cose vedi che la il tuo video si sta per casa si sta giucciando la connessione tanto perché ti ho sentito proprio a scatti forse 720 60 è buono già no eh sì penso di sì perché wifi non è cablato oltretutto se lo metti in cablato non so quanto arriva comunque streamare a 1080 è abbastanza forte lo provo dai vediamo se lo lascio 720p e poi io potrei mettere pure che la bracca blato volendo la situazione però uscirebbe un po uno schifo ora io se mi portano in modo il nuovo se cambia qualcosa perché ho quello vecchio ancora dovrebbero portare quello con se antenne adesso di andare qui ma tu mi senti bene sì sì ti sento però a volte ti sento un po scatti quindi come facciamo arrivare la sopra sulla sinistra vai sulla sinistra ci sta un ponte giusto che giri a destra ok faccio prendere a piedi mi sono eh sì forse sì no qua no sì perché giri cambia tanto eh i suoi sensi di colpa comunque mi sa prossimo checkpoint devo chiudere come mai ok bisogna dormire di fare no poi ti spiego in che senso che è successo non è che succede niente o no aspetta nel senso poi ho intonato mio fratello quindi no no sei nella stanza sì se vuoi possiamo non so la prossima c'è capo e allora proseguiamo abbiamo riparo che c'è bello qua cazzo pure pure cacchia minchia prendici invisibili vai eh non posso che cazzo No, mi sono avvecchiato. Mi sono aperito. Mi vuole io. Ok. Ma giusto, giusto. C'è ansia, capito, giusto, giusto. Beh, abbiamo imparato qualcosa. Bisogna. Non sembrava che stonbatterà bene. Solo uno di un singolo. Guardiamoci intorno e proviamo riuscire. Questa è ghiaccia. Ah, di là. Lael, andiamo su. Ok, ti chiudere? Ehm... Tra poco. Pura. Non è un carrier che ti preoccupa. Attacca, me lo rivencio. Adoro questa tempesta. Pura. 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 oh c***o c***o sono debitore qua l'invisibilità non sa bene niente ecco fatto ecco fatto proseguiamo ok ecco fatto prendi munizione è chiuso come è chiuso? ma è chiuso dietro? ah no ecco qua ci sono un piccolo spazio attenta non è ancora finita e la grandina era un problema? mamma mia se tu vai troppo avanti che c'entra? non ho dover ripararmi se vai troppo avanti occhio! passo di ghiaccio in arrivo vado un po' più lento perché ho l'arma dove sei? aspetta 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 aia c'è a sinistra aspetta la porta è vicina almeno quelle torrette sono congelate sto avendo una missione che devi fare? c'è ancora un po' mi cazzo sei per faria aspetta aspetta vai vai la ma come si ripesta positive? l'alimentazione Eccola là Ok, prova a riattivare la corretta Era da tanto che non c'era Jack, ero? Buon fatto, Jack Connettiamo Jack alla vostra Ok, non è qui Ah, come ancora di prima forse che hai fatto tu Accesso non autorizzato Protocollo di sicurezza avviato Errore Protocollo di sicurezza inutilizzabile Il sistema di sicurezza è arrivato Controlliamo i dati Prima di città Ah, come hai fatto tu, giusto? Si Si sente una vibrazione quando sei in una zona Da controllare Devi aspettare Lascia che è carico La, corrisponde Della strella portale Quindi possiamo trovarlo Devo fare un controllo Ma sì Puoi dirlo a Marcus o ci penso? Torniamo allo script Possiamo dirglielo in movimento Oh No No, sir Quante hai? Si, se sono te la Prossimo checkpoint Chiudo Ok Sto a mettere saltando Ah, ho trovato una cosa Oh, finchia, cinque componenti Ottimo E la prossima volta che giochiamo Li potenziamo No? Eh sì Dai, ottimo Ho ricomplitato Vabbè, Maria Eh Ci Ci aggiorniamo prossimamente Che dici? Cap'er Per Cap'er